Oggi è giornata contro la violenza sulle donne, ci sono due panchine rosse che ci sono appunto in città, grazie a Lions e grazie all'ospedale CGL, a Lauser, ai SociCOP e tante associazioni, le abbiamo inaugurate in Piazza Matteotti, appunto in Piazza Mazzini, anche nelle scuole. Sono un simbolo, sono un simbolo per ricordarci tutti i giorni di dire no alla violenza sulle donne, riguarda anche noi, riguarda la valdezza. Spesso siamo portati a pensare che il mondo della violenza sulle donne, interessi, gli extracomunitari, il disagio, invece no, riguarda le persone cosiddette normali, riguarda tutti noi. Sono persone, sono donne dai 15 ai 70 anni, quelle che vengono prese in carico dal centro antiviolenza. Sono donne appunto italiane, sono spesso donne che lavorano, che hanno figli e che hanno purtroppo situazioni di violenza che possa essere fisica, psicologica, violenza economica da compagni, figli, ex mariti, spesso anche da persone che hanno una buona reputazione e che hanno anche una situazione economica agiata. Quindi come si vede appunto non è vero che la violenza è legata soltanto ad un certo contesto, ad una certa idea, riguarda tutti noi e bisogna dire no tutti i giorni. Le panchine, le scarpe rosse che sono a mia maestra oggi sono qui per ricordarci.